Buova Marina in provincia di Reggio Calabria e sulla costa Ionica. C'è un convegno organizzato sul tema quali prospettive per i piccoli comuni eliminarli o mantenerli. Tra poco nella sala IRSEC alle 10.30 ci sarà questo convegno. Ne parliamo con Franca Biglio, Presidente nazionale dell'AMPC. Rispondere a questa domanda per noi è molto facile. Mantenerli o eliminarli? A livello parlamentare la risposta è eliminarli perché sono una fonte di spreco. Per quanto riguarda noi, che siamo 5.736 sindaci dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che siamo a contatto diretto con i nostri cittadini, in quanto siamo votati direttamente da loro, siamo l'unica istituzione virtuosa che ha ancora un rapporto costante e quotidiano con il cittadino, per noi eliminarli significa buttare a mare millenni di storia. I comuni sono venuti prima di tutte le altre istituzioni, a presidio del territorio, non solo di storia ma di arte, di cultura. Vuol dire buttare a mare la democrazia italiana, ma esiste ancora? Siamo ancora in un paese democratico? Significa buttare a mare la geografia italiana. Cancellare dalla nostra carta geografica, pensate un attimo a un cielo stellato, tantissime stelle, tutto buio e vediamo un firmamento splendido. Trasferiamoci dalla terra, andiamo un attimo su una di quelle stelle, spegniamo tutte le luci delle grandi città, lasciamo accese sul nostro territorio solo quelle dei piccoli comuni, vedrete un'Italia illuminata tutta, perché i piccoli comuni sono ovunque a presidio del territorio. Allora, qui ci sono poche cose da dire, noi non ci lasciamo più incantare dalla famosa spending review. La spending review deve essere applicata a qualcun altro, cioè a chi spreca e non a chi eroga servizi nonostante i fabbisogni standard siano superiori alla spesa storica. Cioè noi eroghiamo servizi migliori pur risparmiando, attenendoci semplicemente alla spesa storica quando il fabbisogno è superiore a quella spesa storica, quindi noi risparmiamo. Allora, le dico subito le iniziative. Da marzo alla vigilia del referendum, in tutti i piccoli comuni d'Italia partono iniziative locali, assemblee pubbliche, consigli comunali aperti, con un unico scopo, far conoscere ai nostri cittadini qual è la situazione reale del nostro Paese, dove il Parlamento, io non dico il Governo perché nessuno ha alzato mai un dito a difendere i piccoli comuni, dove il Parlamento italiano vuole portare l'Italia e cioè a uno smembramento totale ma anziché smembrare il tessuto sociale. Perché non pensiamo a smembrare le grandi città che sono fonte davvero di spreco? Pensiamo un attimo a Roma, ormai non è più conosciuta come la più bella capitale del mondo, mai conosciuta per mafia capitale, per affittopoli, 23,4 miliardi di debito. I piccoli comuni sono tutti coi conti in regola. Allora dall'inizio di marzo ad ottobre, il nostro slogan sarà, i nostri comuni saranno tappensati da manifesti sui piccoli comuni, sventola bandiera bianca, parafrasando la famosa canzone dibattiato sullo ponte sventola bandiera bianca. Cosa significa bandiera bianca? Resa? Assolutamente no. Noi chiederemo e saremo risoluti e lo dobbiamo ottenere, quella pagina, quella bandiera bianca significa spazio libero, pagina bianca per scrivere insieme allo Stato un patto, Stato, piccoli comuni per la sopravvivenza di una realtà vera che rappresenta le cellule fondamentali della nostra Repubblica. E' l'unica struttura democratica ancora esistente sul territorio. Se questo non avverrà, beh ci saranno delle mobilitazioni che credo se ne parlerà in tutta Europa, se non in tutto il mondo. Su questo siamo certi. Una legge che ha prodotto numerosi commenti e polemiche. Ma una legge distruttiva, ma incominciamo dalla 56 del Rio, guarda che noi lo dicevamo e siamo stati tacciati per i gufi della situazione, per quelli che vogliono mantenere il proprio orticello, che non vogliono guardare al futuro. Ma il futuro è l'abolizione dei piccoli comuni? Perché chiudendo, abolendo i piccoli comuni, distruggendo i piccoli comuni, davvero l'Italia risolverà tutti i suoi problemi? Non sono i piccoli comuni quelli che sprecano. Sì, è ben chiaro? Quindi noi non ci stiamo più. Basta queste farse. Noi non crediamo. Ma la gente che non deve credere a quello che fanno credere, con questi famosi slogan. Allora, lo stesso Presidente del Consiglio, in un Twitter, ha scritto, non sono certo i piccoli comuni, lo spreco. Lo spreco lo troviamo nelle grandi città, in particolare Roma e Regioni. Allora incominciamo di lì, ma lo sa che soltanto la Camera dei Deputati all'anno costa, soltanto Montecitorio, costa un miliardo. E cioè dire, un milione e mezzo per deputato. Se noi andiamo a fondere i piccoli comuni, il risparmio, come quello famoso delle province, che doveva essere 17 miliardi, 11 miliardi, poi alla fine è stato 100 milioni, e cioè le indennità degli amministratori, però rimangono le scuole, rimangono le strade, rimangono i dipendenti. Ebbene, cosa succederà? La stessa cosa succederà, sta succedendo in città metropolitane, sono in default, hanno bisogno, non hanno risorse, chiedono più soldi, ma allora se si risparmia perché chiedete più soldi? Succederà la stessa cosa ai piccoli comuni, che fondendoli, così come dicono, andrebbero, come le dicevo, a risparmiare 180 milioni di euro, pari a 12 deputati. Quindi, secondo voi, cittadini, mi rivolgo ai cittadini, è meglio avere 12 deputati in più che vanno solo a legiferare sulle nostre teste, senza consultarsi con noi, che non rappresentano nessuno, o è meglio mantenere 5 mila e passa quasi 6 mila piccoli comuni che tutelano un territorio variegato, difficile, a forte rischio idrogeologico? La Calabria è la prima in assoluto a forte rischio geologico, 100%. Fusione a freddo, fusione a caldo, se due comuni non si fondono, quale scenario si apre? Ah, in base a questa proposta oscena, già demenziale quella del rio, questa è oscena, succede che la regione, ma guardate che qui è l'astuzia, L'articolo 2 e l'articolo 3 prevedono che dopo 24 mesi i comuni non ottemprano, allora sarà compito della regione decidere di imperio, quindi noi saremo sempre sudditi di qualcuno in qualche modo. Ma la cosa interessante, siccome le regioni si ribellerebbero sicuramente perché sono più vicine ai loro sindaci, hanno trovato la scusa, voi dovrete farlo, obbligatoriamente, perché altrimenti verrete decurtati del 50% dei trasferimenti e quindi il Presidente della regione ci dirà, ma noi dobbiamo farlo, altrimenti ci tagliano i trasferimenti. Queste sono piccole astuzie di persone che pensano solo al loro cadreghino davvero, a mantenere i loro privilegi, dei piccoli comuni, della gente che li abita, del territorio, non interessa niente a nessuno. Ma forse si stanno sbagliando perché ci siamo noi. La Calabria dei record negativi ne uscirebbe a pezzi. Ma certo, ma non solo la Calabria ne uscirebbe a pezzi, ma pensiamo un attimo ai 29 comuni, patrimonio dell'UNESCO, appena entrati appunto a far parte di questa magnifica organizzazione della provincia di Cuneo. Che fine fanno? Non esistono più. Allora da un lato andiamo a individuare le specificità, le peculiarità di un territorio splendido come il nostro. Non c'è una nazione al mondo che abbia tanti tesori come l'Italia. Ma andremo a distruggere tutto non soltanto la Calabria, ma tutte le province, ma tutte le regioni. Pensiamo alla montagna. Qui avete mare e montagna. Tutti abbiamo strade da percorrere di difficile percorrenza. Ma purtroppo oggi cosa succede? Contano solo più i numeri. La popolazione. I trasferimenti in base a una quota pro capite, cioè i cittadini. Gli ospedali chiudiamo la ginecologia se non raggiunge tot parti. Chiudiamo le scuole se non ci sono tot bambini. Questa non è la logica. Perché c'è il territorio anche da costudire. E nel momento in cui spariranno i piccoli comuni, e nel momento in cui il territorio verrà abbandonato e desertificato, chi ci penserà? La coperta è troppo lunga o troppo corta? La coperta è giusta se la sanno regolare bene. Purtroppo è troppo corta per noi, è troppo lunga per chi spreca. I ministeri costano un miliardo al giorno. Al giorno, noi mentre oggi parliamo, i ministeri oggi spendono un miliardo. Domani un altro, domani un altro. Ma ci rendiamo conto? Ma che cosa fanno? Mi dica che cosa producono? Cosa stanno lì a fare? Io farei una proposta. A tutti quanti andate in vacanza. Garantiamo tutti i vostri benefici, tutte le vostre indennità. Paghiamo tutto, andate in vacanza in un'isola lontanissima e fate più niente. Perché ogni volta che ne studiate una, distruggete il paese. Questo è il nostro invito. Ne parliamo anche con il sindaco Ugo Suraci. Il comune di Montebello non rischia granché, alla luce di questa legge, almeno per ora. I numeri ci sono o no? Il problema non è se rischia Montebello o un altro comune. Qui siamo a contestare una legislazione che ormai avanza da molto tempo, che taglia, elimina i rapporti tra amministrazioni locali e cittadini. La soppressione per legge di comunità che hanno rappresentato la storia è che sono comunità che hanno identità specifiche e non possono essere soppresse con un tratto di penne per motivi sicuramente non di riordinamento istituzionale, ma per motivi solamente economici. Quindi noi non siamo d'accordo, al di là se il comune di Montebello rischia o non rischia. Noi siamo perché si mantengono aperti i canali di relazioni, di democrazia, di partecipazione dei cittadini al governo delle proprie comunità. Sopprimerle significa interrompere ulteriori canali dopo quelli già interrotti negli anni passati. Tra i comuni che rischiano qualcosa ci sarebbe Palizzi? Ne parliamo con il sindaco Walter Scerbo. No, non ci sarebbe Palizzi, c'è Palizzi. Ci sono tutti quei comuni sotto i 5.000 abitanti che nella sola provincia di Reggio corrispondono a 70 sul 97. Quindi se malaguratamente questa legge dovesse vedere la luce, sparirebbero in un sol colpo 70 comuni sul 97. Rimarrebbero appunto solo 27 comuni della provincia di Reggio Calabria. Ma che significa ciò? Significa che si desertificherebbe il territorio dal punto di vista della presenza, dell'identità, del presidio. Parliamo sempre di spopolamento dell'aria interna, manca il presidio, mancano le persone. Così facendo favoriamo la desertificazione dei territori. Non siamo in Val d'Aosta, o meglio, non siamo nella Polinore Padana dove anche la conurbazione diretta dei comuni può essere indolore attraverso questa legge. E qui siamo in Calabria, siamo in una regione, l'Italia, che si fonda sui piccoli comuni. Ricordiamo tutti che il Rinascimento nasce appunto con i comuni e l'armatura dei piccoli comuni innerva l'intera Italia. Se noi vogliamo che ciò non avvenga dobbiamo opporci con forza a questa proposta di legge e questo noi faremo oggi. Il padrone di casa, tra virgolette, è l'Avvocato Vincenzo Crupi, sindaco di Bova Marina. Bova Marina mi sembra che non rischia granché, anche se gli abitanti sfiorano solamente i 5.000. Stando alla proposta di legge, Bova Marina dovrebbe accorparsi con Bova e con qualche altro comune per superare la soglia dei 5.000 abitanti. Noi come sindaci ovviamente siamo contrari a questa proposta di legge, ma non per difendere la posizione perché il sindaco è, come si dice, protempore. Riteniamo che questa proposta non vada nell'interesse delle comunità. Ovviamente non diciamo un semplice no, ma vogliamo e intendiamo discutere con il Parlamento per ridisegnare l'assetto complessivo del governo locale, che comunque alla luce dei cambiamenti normativi e il mondo che cambia, la società che cambia, va ripensato. Il processo deve essere un processo democratico, deve essere un processo su base volontaria, va discusso con gli amministratori e soprattutto con i cittadini. Scopo di questo incontro è proprio questo, tant'è che abbiamo invitato l'onorevole Bossio che ha una delle firmatarie di questa proposta di legge e il presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, Franca Biglio. Quindi per sentire le due parti in causa come... Non per caso il convegno si svolge nella piccola capitale della cultura, non solo del Basso Ioni, ma a Bova Marina. Sì, abbiamo deciso di farlo a Bova Marina, nel cuore della Regra Canica, ma ripeto, penso che forse è una cosa di buono questa proposta di legge, c'è là che è quella di di aver un po' smosso le acque, quindi credo che ci saranno altri incontri, perché ripeto, il nostro obiettivo è quello che una riforma degli enti locali vada nell'interesse delle comunità per un vero miglioramento dei servizi. Agostino Zavettieri, dottore, Agostino Zavettieri, sindaco di Rogudi, una delle capitali del Grecanico. Buongiorno a voi tutti, buongiorno ai cittadini, siamo qua stamattina per intanto di capire per bene com'è questa questione che si profila a livello nazionale per quanto riguarda la fusione dei comuni, che qua si sopprime quello che sono la propria storia, le proprie tradizioni, le proprie... il discorso dei comuni è fondamentale, i piccoli comuni, chiamiamo piccoli e medi comuni sotto i 5 mila abitanti per cui conoscono il territorio, conoscono le esigenze per cui posso... venendo a mancare questa che si profila la fusione, non sappiamo di quanti comuni dovrebbero essere fusi per fare un comune unico, secondo me si peggiorano le cose. Dobbiamo cercare innanzitutto di andare verso l'unione dei comuni, che è una cosa ben diversa, è una cosa condivisa tra i sindaci, tra il territorio e possiamo ragionare assieme, ognuno che abbia il proprio consiglio comunale, io direi ancora di più, diminuiamo i consiglieri comunali per ogni singolo comune e invece di aumentarli come hanno fatto con l'ultima riforma del Rio, li hanno portati da 6, nuovamente a 11, a 12 i piccoli comuni. In questa maniera creiamo di più quello che è contenzioso anche tra i consiglieri perché ognuno vuole occupare un ruolo, ognuno vuole essere determinante, vuole decidere per il proprio territorio, per il bene del territorio perché qua non si va a gestire, io lo dico con molta franchezza, io sono sindaco quasi alla sua scadenza da 10 anni e io cerco di portare un contributo per il territorio, ma non solo per il mio territorio, come diceva prima, io sono uno dei comuni dell'area grecanica, del cuore dell'area grecanica, sì, sono uno dei comuni che pensiamo e ragioniamo assieme agli altri comuni, se vogliamo andare avanti, perché l'area grecanica è unica e questo è l'obiettivo, noi dobbiamo ragionare per creare dei servizi unici per i singoli comuni, se non gestiamo più, non riusciamo a gestire i nostri comuni, è vero da un lato, però dobbiamo andare verso l'unione dei comuni, non la fusione, che la fusione ci porta alla distruzione del territorio, della cultura, della storia, di tutto quello che è dei nostri comuni. Fusione, aggregazione, il sindaco Santo Casile di Bova, qual è la sua opinione? Sì, allora io per quanto riguarda questa proposta di legge che è stata presentata a novembre da 19 parlamentari sono assolutamente contrario, anche perché i piccoli comuni perderebbero la loro identità, sia culturale, sia della storia e anche quella morale, insomma, non è possibile aggregare questi comuni per arrivare a 5.000 abitanti, perché si creerbbero di servizi e si creerbbero anche problemi alla popolazione, quindi verrebbero a meno tantissimi servizi, tipo le farmacie e tipo tant'altro, gli uffici postali, insomma, tutto quello che oggi siamo riusciti a mantenere andrebbe perso, quindi sono assolutamente contrario, quindi oggi ci sarà qui l'onorevole Enza Bruno Bossio, che è una delle firmatarie di questo decreto, anche se loro hanno dato un tempo di 24 mesi per l'approvazione, ma se dovesse passare questa scelta, questa modifica sarebbe una scelta, la chiamiamola così, scellerata, che cederebbe, diciamo, penalizzerebbe i comuni e soprattutto gli abitanti che ci vivono, quindi sono assolutamente contrario a questa riforma. Favorevole o contrario, l'ingegnere Giuseppe Meduri, il sindaco di Melito Portosalvo, Melito non rischia granché, però questa legge come la vede? Sì, è assolutamente inopportuna, l'identità dei comuni non deve essere mortificata, ma anche perché scomparirebbero, i pochi comuni che andrebbero a scomparire, non porterebbero quel beneficio alla nazione, quel risparmio economico così che poi è paventato, quindi assolutamente inadeguata come proposta di legge. Il professore Domenico Penna, sindaco di Roccaforte del Greco, qual è la sua opinione in merito a questa legge? Credo che è assolutamente sbagliata, anche perché io come Roccaforte, una piccola realtà come quella di Roccaforte può essere portata anche come esempio di che laddove c'è una capacità, una possibilità per le popolazioni di partecipare democraticamente, pertanto eleggere i propri organismi è un conto. Noi ci siamo trovati a Roccaforte per anni con commissariamenti, pertanto con una realtà amministrativa gestita da lontano e questo non ha fatto altro che aumentare lo spopolamento di Roccaforte e noi ci stiamo bene, pertanto c'è la necessità che i comuni restino, anzi le piccole realtà altrimenti morirebbero. Sentiamo le varie opinioni anche quelle di Gianfranco Marino, ex vice sindaco di Bova. Oggi è un tema particolarmente importante perché la proposta di legge sulla fusione dei comuni inferiore a 5.000 abitanti ridisegnerebbe totalmente lo scenario in una regione come la Calabria dove 323 comuni su 409 hanno questa caratteristica che a detta del governo è negativa. Ormai abbiamo toccato con mano quanto la razionalizzazione legata semplicemente ai numeri stravolga poi quelle che sono le dinamiche locali non tenendo conto delle realtà territoriali, perché in verità la legge costruita sulla carta poche volte trova poi rispondenza nell'applicazione pratica. Già nel 2011 abbiamo l'opportunità di manifestare all'allora Presidente dell'Anci del Rio in un incontro, in un tavolo romano a cui presi parte con una delegazione di piccoli comuni la necessità di rivedere questo tipo di soluzione al fine di garantire non solo una rappresentanza politica ai piccoli comuni, ma soprattutto il mantenimento di quell'identità, di quelle peculiarità, di quei fattori culturali e sociali che in questo modo andrebbero inevitabilmente a perdersi o comunque succederebbe questo nella stragrande maggioranza dei casi. Ecco, questo noi non lo vogliamo, oggi siamo qua per ribadirlo e per ribadirlo con forza, quindi ringrazio chi ha organizzato questo incontro e lo faccio perché la tutela delle identità locali passa inevitabilmente dall'impegno degli amministratori che rappresentano le comunità ma anche dal coinvolgimento delle popolazioni che devono essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze di provvedimenti come quello di cui stiamo parlando. L'opinione anche dell'avvocato Mario Maesano, ex vice sindaco, presidente di associazioni culturali eccetera, quasi giornalista, comunque una opinione diciamo che ha un suo peso. Quel quasi giornalista mi pesa, vediamo se raggiungiamo l'obiettivo. Sì, siamo qui in questa iniziativa Lodebole organizzata dagli amici di Boa Marina per discutere di una proposta di legge, la proposta Lodolini che prevede effettivamente la fusione dei comuni che non raggiungono quel numeretto che si chiama 5.000 abitanti. Naturalmente noi siamo nettamente contrari a una proposta che viene paventata come una sorta di ottimizzazione delle risorse, non è così. Io l'ho definita una legge incongruente, illogica e incostituzionale perché non attraverso l'accorpamento, la fusione si giunge assolutamente a ottimizzare le risorse e nemmeno a garantire efficienza, efficace, economicità, trasparenza e nello stesso tempo a garantire i livelli di minimi di assistenza ai cittadini. Ma bensì determinerebbe il venir meno della democrazia partecipativa, della democrazia partecipativa che significa che le decisioni più importanti vanno prese sentendo le popolazioni. Questa è una legge, dobbiamo dire, mano militare imposta dall'alto, d'imperio, che non tiene conto delle nostre realtà perché le nostre realtà sono fatte dai piccoli comuni e quindi siamo affinché si possa riflettere su questa proposta e che sia abbandonata. Dispiace che oggi si parla di ottimizzazione delle risorse solo per eliminare i comuni e limitando soprattutto la partecipazione dei cittadini. Ma un aspetto ulteriore negativo è quello che l'attuazione della fusione dei comuni spetterebbe alla Regione ai sensi dell'articolo 15 del Tuel coordinato con l'articolo 133 e 117 della nostra Costituzione e qualora non adempissero, dobbiamo dire, a questo provvedimento si giungerebbe a una decurtazione delle risorse del 50% dei cosiddetti trasferimenti in settori cardeni, quali per esempio la sanità e i trasporti. Non è condividibile, non è plausibile una proposta di legge del genere e quindi cercheremo di avversarla con ogni strumento. Il consigliere provinciale di Reggio Calabria, Pierpaolo Zavettieri, non si trova tra l'incuente e il martello tra Scilla e Cariddi, comunque è una questione che va affrontata. Sì, no, io mi trovo in una fase di ragionamento aperto, credo che ancora sia questa la fase, perché comunque la legge ancora non c'è, è una proposta di legge modificabile. Mi auguro che almeno ci siano i margini per la discussione, intanto sul numero degli abitanti. Ricordo agli ascoltatori che questa legge prevede l'accorpamento, comunque la cancellazione dei comuni sotto i 5 mila abitanti. Ha un percorso abbastanza articolato e se vogliamo anche a tratti giusto, cioè prevede due anni affinché si determinino le amministrazioni comunali dal basso, che possono fare un lavoro migliore in quanto individuano quali sono le caratteristiche, le peculiarità, le condizioni di similitudine tra un comune e l'altro, l'omogeneità territoriale e in ogni caso possono con il concetto di economia di scala rendere un servizio migliore rispetto a una cancellazione dall'altro. Se questo non dovesse avvenire, è un motivo di pensare che possa non avvenire perché è difficile chiedere ai cittadini di rinunciare al proprio stemma, al proprio campanile e la Regione avrà altri due anni di tempo per provvedervi, quindi 4 anni circa affinché non incomba la mannaia dello Stato. Ciò nonostante, conoscendo puntualmente ogni comune dei nostri 97 della provincia, avendo fatto questi 5 anni scarsi di mandato provinciale con il massimo del mio impegno e girando tutti i nostri territori, mi sono reso conto che in alcune realtà raggiungere livelli oltre i 1.500-2.000 abitanti è veramente difficile, quasi impensabile, per cui intanto ragionare su un eventuale abbassamento di questo tetto, non so a 2.000 o a 3.000 abitanti, di contro poi si può anche pensare alcuni correttivi che prevedano elementi sullo sviluppo, le prospettive di sviluppo, per cui non cancellare Tucur e Sic et Simpliciter la nostra realtà, ma ragionarvi sopra. L'altro punto che io proporrò se ne avrò l'opportunità è praticamente quello di voler difendere alcune logiche e realtà proposte già dalle leggi nazionali, quali quella delle minoranze linguistiche, diciamo legge che tutela appunto le comunità minoritarie e che valza anche per la deroga sui numeri della scuola, per cui allo stesso modo anche i comuni possono essere difesi sotto questo principio, la tutela di un patrimonio storico-culturale che appunto è peculiare di alcune zone d'Italia, sono 15 le minoranze linguistiche e noi come territorio grecanico, rientrando fra queste caratteristiche potremmo anche vantarla, quindi la legge è chiaro, va ridiscussa, ripensata e eventualmente modificata, poi chiaramente non è solo qui che si può fare il risparmio, quindi il cittadino capirebbe di più se il risparmio venisse in un modo organizzato e più funzionale al cittadino per garantire servizi e funzionalità di ciò che il legislatore nazionale propone, altrimenti sembra uno specchietto per la lodole, propaganda elettorale e non azioni concrete che vanno a incidere sugli interessi dei cittadini. Romeo, capogruppo del PD alla Regione Calabria. Sì, penso che sia un'iniziativa molto importante, vedo il coinvolgimento di tanti amministratori, discuteremo del destino dei piccoli comuni che è un tema centrale per il PD e per il nostro Paese. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, saluto i sindaci, consiglieri provinciali, gli amministratori, i cittadini presenti qui stamattina. Saluto e ringrazio Gian Camiglio, sindaco di Marsaglia, provincia di Cuneo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia. Segre Romeo, capogruppo del PD Consiglio regionale, non ha bisogno di presentazioni, e l'onorevole Enza Bruno Bossio, deputata calabrese del Partito Democratico. Prima di entrare nel merito della discussione, io farò un saluto molto breve, l'ho fatto tante volte pubblicamente, voglio farlo adesso di presenza, voglio ringraziare Enza Bruno Bossio per la battaglia che ha portato avanti e che continua a portare avanti insieme a noi per la contrattualizzazione dei 5.000 precari calabrese, l'EPU e l'SU. Quindi Enza, a nome della comunità di Boa Marina, ma a nome ritengo di tutta la comunità calabrese, ti ringraziamo veramente per la battaglia che insieme ad altri colleghi stai portando avanti per la Calabria. Oggi lo scopo di questo tema del convegno è quali prospettive, ah voglio dire un'altra cosa, lo facciamo a Boa Marina, ma è chiaro che l'abbiamo organizzato insieme a tutti i sindaci dell'area gregarica e quindi li ringrazio anche per la collaborazione. Dicevo, quali prospettive per i piccoli comuni, eliminarli o mantenerli? È stata presentata una proposta di legge, la proposta di legge Notorini, il primo firmatario, sottoscritto da altri 19 deputati del PD, tra cui l'onorevole Bossio. Questa legge cosa prevede? Prevede che perché ci possa essere un comune la soglia minima di abitanti è quella di 5.000. Questo in Calabria significherebbe che 323 comuni su 409, pari al 78,97%, quindi il 79%, dovrebbero accorparsi. La legge prevede anche che questo deve avvenire entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Se i comuni non lo fanno volontariamente, subentra la Regione che con propria legge farà l'accorpamento. Se i comuni non lo fanno su base volontaria, perderanno i benefici economici previsti dalla legge attuale per le fusioni. Se poi non lo va alla Regione, alle Regioni verranno tagliati il 50% dei trasferimenti, esclusi quelli relativi al servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale. Questa è in estrema sintesi la proposta di legge di cui discuteranno oggi il relatore seduti qui accanto a me. Lo scopo di questo incontro è quello di avviare una discussione, di avviare anche un confronto tra i piccoli comuni e il Parlamento, perché noi, penso di poterlo dire interpretando il pensiero di tutti gli amministratori, almeno quelli qui presenti, è che a noi questa legge non ci piace. Non ci piace per il metodo e per il merito. E dirò un attimo il perché. Ma comunque siamo ben consapevoli che le cose così come stanno non possono rimanere, quindi l'assetto del governo locale va un po' ripensato, va ridisegnato. Non ci piace per il metodo, perché questo progetto di riforma viene quasi un'imposizione, viene imposto dall'alto senza una discussione con il territorio. Riteniamo che qualsiasi processo di riforma, ma soprattutto un processo di riforma degli enti locali, il Comune è la cellula più vicina al cittadino e di conseguenza anche i sindaci, dicevo, deve essere un processo democratico, un processo condiviso non solo con gli amministratori, ma soprattutto con i cittadini. E neanche nel merito, perché non pensiamo che io ho letto la proposta di legge e mi pare che lo scopo della legge alla fine è quello di ottimizzare i servizi, cioè avere i servizi migliori a un costo minore. C'è stato fatto anche così uno studio che l'ottimazione dei servizi, cioè tra la soglia dei 5.000 e 10.000 abitanti. Noi non siamo d'accordo, non siamo d'accordo perché una riforma non può basarsi esclusivamente su un dato numerico, ma intanto va fatto sulla base delle conoscenze dei territori e tenendo conto delle peculiarità storiche, geografiche, culturali, appunto dei territori stessi. Qui noi siamo nel cuore dell'area grecanica, ma parlavamo con Franca Biglio che da Reggio verso Bova ha un comune come Barolo, patrimonio dell'UNESCO, insomma non penso che si può accorpare, ma anche se il Barolo che accorpa altri comuni andrebbe a perdere la sua identità. Io veramente concludo, io penso invece che la strada maestra da seguire è quella dell'integrazione dei servizi, ma un'integrazione concreta, un'integrazione effettiva ed arrivare poi all'unione dei comuni. Io concludo e adesso do subito la parola alla Franca Biglio che ci spiegherà perché questa proposta di legge non deve diventare legge. Giusto? Ok, adesso. E il giallo. Ringrazio tutti, ringrazio l'onorevole Bossio. E il consigliere regionale? Sì, cavo gruppo che dì al consiglio regionale. Al consiglio regionale, ma non c'è anche qualcuno del consiglio regionale, per voi o per noi? Beh, intanto allora, provento di salutarlo per dirgli che noi come associazione piccoli comuni abbiamo chiesto due mesi fa un incontro al presidente della regione per presentare l'associazione che sta nascendo il comitato dell'AMC associazione nazionale che sta nascendo anche qui nella provincia di Reggio Calabria. Abbiamo questa abitudine di chiedere appuntamento ai presidenti delle regioni per chiedere di far parte della conferenza permanente regione e autonome locali e nel CAL Consiglio dell'autonomia. Tutti i presidenti di regione ci hanno ricevuto, molti si sono attivati per far citare sia in conferenza che nel TAN. In altre regioni ci siamo già, sono smecenti di dire che l'unico che non ha ancora disposto alla nostra associazione è il presidente della regione Calabria. Questo mi dispiace, pertanto chiedo a lei, consigliere, di farsi portavoce in questo senso perché la nostra associazione sia ricevuta dal presidente che tra l'altro conosciamo a livello di media, quindi sappiamo anche quanto lui sia attento alla sua regione. Inizio, grazie al sindaco, grazie a tutti voi, colleghi sindaco e soprattutto ai cittadini perché noi dobbiamo parlare ai cittadini che non sono informati, non sono informati esattamente su quello che succede, su quello che potrebbe succedere e su quello che succederà. Parto dalla fine, qui c'è la mia sciarpa bianca, che cosa significa? Che noi, parto proprio dalle iniziative e poi incomincio, parto dalla fine, rimanere nei tempi. Io ho fatto 12 ore di viaggio, per essere qui, ne faccio anche 12 stasera per arrivare a casa mia e quindi per favore, cerco, cerco. Allora parto dalla fine per spiegare le iniziative che l'associazione ha, c'è attraverso il comitato nazionale, una conferenza stampa che ha fatto Roma, ma noi, anche Italia Oggi, ne ho parlato, in molti giornali ne hanno parlato, le televisioni ne hanno parlato, iniziativa che intraprenderemo per far conoscere ai nostri cittadini appunto a che cosa potremmo andare incontro. Non solo se passerà questo scelerato, questa scelerata proposta di legge, ma per tutta un'altra anche serie di problematiche. Qui abbiamo anche dei segretari comunali sanno benissimo che nei piccoli comuni è impossibile lavorare. Blocco del personale, tagli dei trasferimenti al fondo di solidarietà, adesso non ci sarà più l'IVU, non ci sarà più una tasse per i cittadini e noi siamo molto contenti di questo perché pagheranno meno tasse, ma i comuni saranno compensati, saranno compensati in che misura? Riceveranno in tempo utile i trasferimenti o quantomeno la comunicazione? Noi sappiamo che dobbiamo approvare, ci sarà anche qui una proroga, questo è il paese delle mille proroghe, slitterà sicuramente, però ad oggi i tempi sono il 31 marzo, ma il governo centrale ha la possibilità da prima di comunicarci quando i trasferimenti saranno, in che misura saranno trasferiti, quindi noi dobbiamo provare un bilancio a lutto oggi senza sapere quali saranno i trasferimenti perché da Roma hanno più tempo, quindi sono tutte discrepanze ridicole, 50 nuove adempimenti più, blocco sempre con lo stesso personale. I tagli purtroppo sono lineari e vi faccio un piccolo esempio, i comuni incidono, tutti i comuni italiani, quindi quelli grandi, pensate con i piccoli che percentuali avranno. Incidono sulla spesa pubblica dell'8%, le regioni del 18%, le province l'1,2% sono state le prime in virtù della spending review per risparmiare, sono state le prime a essere svuotate per un risparmio di 110 milioni mantenendo le stesse scuole, gli stessi problemi, lo stesso personale che adesso con le regioni, io vedo cosa sta succedendo in regione Piemonte, ancora adesso si sta parlando come localizzare il personale. Non solo quindi per le province, ma adesso andremo a vedere, ho perso il contatto su quello che volevo dire, ma il contatto anche con la realtà territoriale. Ora tocca a noi, ma da noi è da tanto, per i piccoli comuni è da tanto che si parla di accorpamento e di fusione. Pensate, se ne parla del 1990 con la 142. Ma abbiamo toccato l'argomento in modo più forte nel 2011 con il decreto di Calderoli, che ha previsto l'eliminazione di 50, quindi ce l'è per tutti, noi non siamo qui a parlare di questo governo, noi stiamo qui per dire quello che il processo è iniziato per smantellare un paese accorpando, tra virgolette, poi facendo sparire dalla carta geografica tantissimi comuni. Decreto 138 per risparmiare, eliminiamo 54 mila persone che poi erano i consiglieri comunali, che se ritirassero gettone di presenza ritirerebbero 100 euro all'anno. Dopo questo decreto, che prevedeva tu pur le unioni obbligatorie per i comuni fino a 1000 abitanti, quindi sparivano 1936 comuni, ecco che arriviamo nel 2014 con la legge del Rio. Questa è una legge demenziale. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, appena ne siamo venuti a conoscenza, oggi lo dicono tutti. Se voi leggete dal Sole 24 Ore a Italia Oggi, alla Corte dei Conti, all'ex ministro Giarda, il flop delle unioni. Non si è risparmiato nulla, non sono migliorati i servizi, costano di più. Un altro carazzone. Allora ci viene da dire, non era meglio tenere le comunità montane e dire semplicemente che gli amministratori delle comunità montane non ritiravano nulla, esattamente come adesso succede per le unioni. no. Ma oggi capiamo perché. Perché guardate che c'è una filosofia di... io la vedo come un puzzle questo. Giorno per giorno viene aumentata una tessera, una tessera in più, in modo che questo processo sia indolore. Ci stanno soffocando giorno dopo giorno, allungano semplicemente la nostra agonia, questo accadimento terapeutico per portarci comunque a quell'unico obiettivo. La chiusura, la riduzione del numero di comunità. Guardate che l'ha detto il presidente Tassino, sindaco di Torino, uno dei comuni comunque che affrosse un debito pubblico esattamente come Roma e come tante altre città. Presidente dell'Anci, lui l'ha detto in modo chiaro, ripetutamente, da qui al 2018, prima delle elezioni che ci saranno, nel 2018 i comuni, i comuni dagli attuali 8.000 dovranno essere 2.500. Eccolo qui che con la proposta di legge un'altra tessera. Il fallimento da un lato della 56 del Rio, conclamato ormai tutti lo sanno, arriviamo a un'altra bella proposta. L'articolo 1, ecco però noi, io do atto ai 20 firmatari di questa proposta di legge rigorosamente, che dico, non sto già dicendo che anche altri hanno percorso questa strada, se non altro do atto di una cosa, onorevole Bossio, è chiarissima, non lascia spazio interpretazione, perché le leggi italiane sono fatte per essere interpretate e ognuno le interpreta a modo proprio. Più chiara di così non si può. Un comune non può avere una popolazione inferiore ai 5.000. Pazzesco. È pazzesco. È pazzesco che un Parlamento, nessuno dei nostri parlamentari, nessuno, ha piazzato un dito per dire se andiamo avanti così, distruggiamo un tessuto, buttiamo mare, l'istituzione più virtuosa, un pilastro di democrazia. Ma c'è ancora una democrazia in questo Paese? Punto di domanda. I cittadini non vanno più a votare. Ormai si sta incrementando semplicemente un esercito di nominati e i sindaci non hanno più potere. Noi siamo dei cittadini. E perché non siamo scomodi? E perché noi sindaci dei piccoli comuni siamo scomodi? Siamo scomodi perché sappiamo dimostrare che si può governare bene, risparmiando, rispondendo alle esigenze dei cittadini. Cosa che i nostri parlamentari, che non rappresentano più nessuno, chi rappresentano? Quante preferenze ha preso lei, onorevole Bossio? 11.000 alle primarie. Alla prossima elezione spero di essere letta con Presidente. Bene, bene, bene. Non sarò capolista certamente. Bene, questo mi farebbe piacere. Perché i parlamentari, quando erano votati dai cittadini, si trovavano continuamente sul posto perché dovevano conservare il consenso. I parlamentari che sono votati direttamente grazie alle preferenze, sanno, conoscono, almeno sono certa che lo conoscono anche adesso il territorio, sono certa che l'onorevole lo conosce già anche adesso, ma vanno avanti con altri obiettivi. Il territorio italiano, i cittadini, i piccoli comuni, i paesi, i cittadini, il territorio, i piccoli comuni. Non mi interessa più nessuno perché elettoralmente noi non solo dimostriamo che si può governare bene e quindi siamo scomodi. Ma siamo anche dei disertori perché io mi sono sentita dire, mi sono sentita dire da un autorevole esponente del governo voi siete tutti cani sciolti, non vi governa nessuno, tutti a casa. Quindi noi non andiamo ad incrementare quell'esercito di nominati che fa comodo ai partiti perché rispondono direttamente a quello che il partito dice, qualsiasi partito sia. Quindi noi creiamo l'autorevole, semplicemente. Il Presidente del Consiglio, e qui mi è piaciuto molto, in un Twitter del 12 novembre 2013, allora 16.15, scrive, oggi è l'epoca dei Twitter ormai vanno molto, no? Però è girato parecchio e quindi noi l'abbiamo immediatamente captato perché questo è un Twitter da ex sindaco. Noi abbiamo avuto fiducia, tanti hanno avuto fiducia in un Premier ex sindaco, tanti hanno avuto fiducia in un Ministro ex sindaco. Abbiamo detto finalmente, Stato sindaco capirà i problemi. Io non riesco a capire come mai, come arrivano a Roma i nostri parlamentari, tutti, anche quelli che conosciamo noi che arrivano dalla stessa provincia, o è l'area di Roma cambiano immediatamente modo di operare, di pensare e di avere un rapporto con i loro cittadini. Allora, in questo Twitter dice, questa storia che i piccoli comuni sono il problema dell'Italia non mi convince per niente. Bravo Presidente! Non mi direte mica che lo spreco in Italia sono i piccoli comuni. Bravo Presidente! Ne sei consapevole! Gli sprechi sono a Roma e nelle regioni. Bravo Presidente! C'hai veramente azzeccato! Una volta bravo Renzi. Peccato però che voi non seguono tanti concreti. Allora, io voglio darvi, lo so che i numeri portano via l'attenzione perché magari annoiano, ma ve ne do alcuni. Beh, intanto voi dovete sapere che i piccoli comuni non sono uno spreco però devono essere colpati per ridurre i costi. Quali costi? Non abbiamo più un euro, non abbiamo un personale, non abbiamo nulla di nulla e che cosa sprechiamo? Eppure, eppure sapete che i comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, nell'ereguazione dei servizi, hanno la spesa storica e poi è stato fatto l'indagine sui fabbisogni standard. I comuni tutti al di sotto dei 20.000 abitanti erogano i servizi in base a quella spesa storica e risparmiano tutto quello che invece è previsto dal fabbisogno standard che è di più della spesa storica. Vi faccio un esempio pratico del mio comune. Spesa storica 200.000. Fabbisogno standard non stabilito da me 240.000. noi eroghiamo i servizi con 40.000 euro in meno, un comune piccolissimo, quindi le cifre sono piccole, andate a vedere ognuno dei vostri. Con 40.000 euro. Sapete, oggi danno anche le stelline, no? Come per gli alberi 5 stelle e 10 stelle. 0 stelle a 10 stelle. Il mio comune, pur essendo in quella situazione, ha 8 stelle, 60. Cioè quasi 9 stelle. Quindi noi eroghiamo i servizi a costo inferiore. I comuni sopra i 20.000 abitanti si stanno rosicchiando tutto quel fabbisogno che dovrebbe andare a noi, che non viene e costano molto di più. Allora, una proposta provocatoria, poi invece arriviamo a quella seria. Perché non cambiamo l'articolo 1 in questo modo? Un comune non può avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sì, l'articolo 1, ma è la proposta provocatoria. Non è provocatoria, poi arriviamo invece a un modo più serio. Allora, la sovrapposta dice un comune non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a 5.000. Noi diciamo, un comune non può avere una popolazione superiore a 10.000. È una bella idea. Salviamo tutti i comuni fino a 10.000 abitanti. Per quale motivo? Allora, abbiamo, a proposito di numeri, Roma. Roma è la città più bella del mondo. È la capitale forse più bella del mondo. Purtroppo, nel mondo, Roma non è più conosciuta come la culla dell'arte. È conosciuta come macchia capitale, è conosciuta come affittori. Se un piccolo comune dovesse dichiarare un dissesto o dei debiti come a Roma, non so cosa succederebbe. Roma ha accumulato debiti per 20,3,4 miliardi. Esattamente come i ministeri romani che costano un miliardo al giorno. Lo sapete che mentre noi oggi siamo qui i nostri ministeri consumano un miliardo al giorno? Lo sapete che solo Montecitorio e la Camera dei Deputati costano un milione all'anno, scusate, un miliardo all'anno, e cioè un milione e mezzo per deputato. I piccoli comuni, se seguono, se questa proposta di legge dovesse andare in porto, è vero che con le fusioni si risparmierebbe 25 euro pro capite, pari a 180 milioni, un po' come le province, che equivalgono al costo di 12 deputati. Non è meglio lasciare a casa 12 deputati o anche qualcuno di più e mantenere un presidio sul territorio indispensabile? Ma che cosa ce ne facciamo di tutta questa pletora di deputati che rispondono solo al loro partito e non interpretano la vocazione del territorio, le esigenze dei cittadini, le aspettative dei cittadini? Noi abbiamo bisogno di questo, onorevole, forse lei lo fa sul suo territorio, ma non lo faranno tutti. C'è uno scollamento enorme. Ma qual è il partito di maggioranza italiana? L'assenteismo. Perché non vengono contati quella percentuale enorme di cittadini che non va più a votare? E perché non va più a votare? Cosa andiamo a fare a votare per le strade, nei bar? Cosa ti dice tu cittadino? Cosa vado a votare? Tanto non cambia niente. Questa è la frase. Noi dobbiamo fare in modo che qualcosa cambi. Per fare in modo che qualcosa cambi, sui piccoli comuni sventola la bandiera bianca. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa proposta di legge è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. No, se ne può bene. Cosa vuol dire sui piccoli comuni sventola la bandiera bianca? Abbiamo voluto far affrasare la famosa canzone di Battiardo sul ponte sventola la bandiera bianca. Abbiamo, rispetto alla ritmica, se noi mettiamo sottofondo, e l'abbiamo già cantata, la canteremo in tutti i comuni, perché questa iniziativa verrà realizzata in tutti i piccoli comuni d'Italia, appunto da marzo ad ottobre. Perché andremo al referendum. Noi abbiamo un presidente che ha detto una cosa che è tratta nella mente di tutti. Noi siamo convinti che la manterrà. È una persona di Garola. È stato un ex sindaco, non può dire una cosa e poi non farla. Uai, se un sindaco di un piccolo comune promette una cosa e poi non la fa. Ti suonano il campanello e vengono a casa tua. Quindi noi siamo certi che la fare. Lui ha detto, se non passa il referendum su una riforma costituzionale, me ne vado a casa. Noi non vogliamo che il presidente vada a casa. Saranno i cittadini a decidere. E questo referendum sarà importantissimo. Che cosa dice questo referendum? Per quanto riguarda noi, dunque, l'articolo 117 della Costituzione oggi riconosce in capo ai comuni capacità organizzativa, gestionale, decisionale, addirittura fiscale ed impositiva. Quando mai? Che capacità abbiamo ancora? Non ne decide. Noi siamo diventati dei semplici esattori delle cose immobiliari per conto dello Stato. Lo sapete l'Imu? Che non è andata tutta nelle casse dei comuni, ma una buona percentuale per quanto riguarda noi il 40% è andato allo Stato. Lo sapete? Quindi rosicchiano da tutte le parti. Oggi, quindi, i comuni hanno potuto stare a regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento delle funzioni, delle funzioni. Le funzioni non possono essere delegate, poi vengo a te per quanto riguarda i servizi. Oggi sapete come verrà cambiato? A parte la farsa del Senato, eh? Ma il Senato, scusate. Di nuovo, un altro, una parte di quelli che fanno parte dell'esercito dei nominati sarà il Senato. Ci saranno i sindaci dei comuni capoluogo, città metropolitana, ma guarda un po', Fassino. Fassino ha una grande capacità, è gravissimo, pur avendo il comune in dissesto. Però Sarai, non so come farai, è vero che lui corre come una lepre, ma sarà. Sindaco di Torino, Podestà della città metropolitana, perché sono riusciti a ritrovare, a riscoprire la figura del Podestà, in quanto governa, non eletto i cittadini dei 315 comuni della provincia di Torino. Ma ci rendiamo conto? Quindi, sindaco, Podestà, senatore, presidente del Lancia. E' bravissimo. Ma qua senatore? Sì. Quindi, no, non è il senatore. Diventerà il senatore. Lo sarà. Scusa, ti ringrazio, perché ho saltato questo passaggio, mi vuole proprio arrivare lì e quindi vedi che c'è collaborazione anche in questo. Non sarà lì. Dimenterà questo articolo che il governo centrale avrà, quindi, potestà su ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali dei comuni, che sono delegabili, e di principio sulle forme associative dei comuni. Quindi decideranno da Roma quello che sarà di noi. Eccola qui, la proposta di invece. E noi siamo d'accordo nel gestire in forma associativa i servizi. Lo facciamo già. Io non gestisco niente autonomamente. E qui, tanto. Niente. Abbiamo il segretario a scavalco o in convenzione con 5, 6, 7 comuni. I rifiuti, il socioassistenziale, i tecnici. Poi c'è una bellissima norma, l'orevole. Io vorrei che lei fannesse altro di questo. E' l'articolo 1,500, poi io lo dico di preciso, delle leggi 311, che consente di rispondere risparmiare e avere delle professionalità. Consente ad un comune di poter chiedere la professionalità, il geometra ragioniere, ad un altro comune, che il comune dove questa professionalità è a tempo indeterminato, quindi dipendente, che possa essere data al comune che ne ha bisogno e viene pagato solo per le ore che fa. Quindi si risparmia e si che sia. Allora, due o tre cose. Onorevole Bossio, noi ci ricordiamo di lei perché lei è venuta a una delle feste dei piccoli comuni, nazionali piccoli comuni, Carlo Pezzati, 2014 o 2013, 2014. Noi abbiamo apprezzato tantissimo il suo intervento perché era completamente sulla nostra linea. Autonomia, rispetto dell'autonomia dei comuni, sono comuni che devono decidere perché sono l'espressione di chi li ha votati. Conoscono il territorio e sanno qual è la cosa migliore per i loro compi. Quindi, a piena autonomia. Quando noi... Ma lei se lo ricorderà, questo il moderatore è sul mio blog. Il moderatore stesso, Marco Perosino, che sapeva che oggi l'avrei incontrato, mi ha detto ricordale quello che ha detto perché noi ce l'abbiamo verbalizzato. E abbiamo detto finalmente una parlamentare che condivide le nostre idee. Adesso ci troviamo con una proposta... Una proposta firmata da lei che va nel senso contrario. Ma la cosa che mi interessa di più è che è anche sottoscritta da una certa Daniela Sbrollini, sapete chi è? Oltre che parlamentare. È funzionario Anci Veneto. Allora non mi direte mica che questo puzzle è fatto così a casaccio. C'è una strategia. Non mi direte mica che il Presidente Renzi non sa che venti dei suoi parlamentari hanno fatto una proposta di legge mentre si decideva col Sattosegretario dei Vincenti di ottenere una proroga di un anno per riscrivere tutto l'impianto che vada a vedere la riforma organica di tutto il mondo delle autonomie che non è fatto solo da piccoli comuni ma ci sono anche le regioni. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, Onorevole, è che però alcuni suoi colleghi hanno preso le distanze. David Borghi, Vice Presidente Anci, Presidente Uncem. L'Uncem ormai è Anci. Mi dicono anche la Lega dell'Autonomia, però c'è qualcuno che mi rappresenta e mi dice di no. L'Uncem ormai sono tutti Anci. L'unica voce a favore dei piccoli comuni indipendente è l'AMCI, l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Pi e quindi diamo fastidio anche in quello. A parte il fatto che hanno preso le distanze mi stupisce che lei in una lettera molto onestamente dichiara quasi in modo orgoglioso, e ne avrebbe anche ben donne, di aver sottoscritto anche la legge 2510 dell'Onorevole Mura che noi condividiamo in tutto e per tutto. Sapete perché? Perché è finalizzata, e lo scrive l'Onorevole, all'istituzione di misure agevolative per contrastare lo spopolamento e l'abbandono dei comuni fino a 3.000 abitanti. Allora, da un lato contrastiamo lo spopolamento, dall'altro firma, non c'è 34, 20, che dice via in Comune fino a 5.000 abitanti. Dove sta la coerenza Onorevole per favore? Prima o poi finire di parlare. Ma lei parlerà a quattro ore. Allora, finito tutto questo, vi traduco. è concluso, è concluso, io ho finito, io ho finito. Onorevole Mura la richiesta è... Onorevole Mura, scusi, perché noi l'Onorevole Mura condividiamo, lei la sottoscritta, abbiamo già presentato i nostri emendamenti, se quella legge dovesse andare in porto sarebbe la soluzione di tutti i mali. Quindi la prego di sostenerla, ma soprattutto non sottoscriva questa proposta di legge, che è un disagio. Non una sottoscritta, noi questo glielo chiediamo, perché lei, onestamente, mi dirà, è certo, è certo, perché lei, io ritengo che lei sia intellettualmente onesta, quindi non può stare con i piedi in due scarpe, o si tutelano i comuni o si affossano, insomma, non è possibile l'una o l'altra, a meno che. Chiudiamo con la canzone che sarà il nostro slogan, tutti i comuni, intanto il 12 marzo a Volterra ci sarà una manifestazione pazzesca, perché noi non andremo avanti finché, sul ponte svento la bandiera bianca, bianco non è resa, spazio bianco libero, e lei onorevole, le chiedo qui davanti ai suoi concittadini di stare a fianco a noi per aiutarlo a scrivere su questo spazio bianco un patto, Stato, piccoli comuni, che garantisca la sopravvivenza di queste comunità splendide per il bene dei nostri cittadini, perché noi sindaci siamo l'espressione loro e siamo al loro servizio. E allora questa, Mr. Tamburino incomincia, no? La canzone di Baffiato sul ponte, chiudo qua, vedete, sul ponte svento la bandiera bianca, sui piccoli comuni svento la bandiera bianca, come spazio libero proprio per riscrivere un patto, che vorremmo riscriverlo con lei, e ci piacerebbe tantissimo. Non diciamo Mr. Tamburino, sapete che Baffiato in questa canzone fa tantissimi riferimenti, qui è riferito a Bob Dylan e poi a tanti altri. Noi l'abbiamo tradotta così. Sei tu che lo scrivi? Sì, ma con chi ci riceve? A me per non appellire piace più che lo scrivi. Metti la pochettina. A livello politico, a livello politico la mente come vuole, chiude la bandiera. Quella bianca ha un significato che non vuol dire noi ci arrendiamo, vuol dire pagina bianca, scriviamo insieme una normativa per i piccoli comuni, non contro ma per i piccoli comuni. E allora no Mr. Tamburino, Mr. Presidente, ci ringeriamo al Presidente del Consiglio. Non ho più voglia di subire, perché tradicciamo solo le parole come potrebbero essere per noi. Mi rimetto in battaglia, i tempi stanno per cambiare, perché la canzone dice così cambiamo alcune parole. La canzone dice sono figlio delle stelle, noi diciamo sono figlio della storia. I piccoli comuni sono figli della storia. E pro-nipote mi sono a questa Costituzione. Dispettiamola questa Costituzione, non stiamo sempre a cambiarla a favore di chi? Per fortuna il mio civismo non mi fa accettare quelle leggi particolari per campagne elettorali. E ha voglia di mettere denari edulcoranti, sono sempre mobili, mi tirano giù. Cosa vuol dire, a cosa ci riferiamo? Lo sapete voi che chi si fonde, chi si unisce, avrà dei privilegi enormi. Non dovrà rispettare l'armonizzazione di bilancio, non dovrà questo, non dovrà quello, non sarà rinunziato, avranno soldi a palate, voi ci credete? Ma se soldi non ce ne sono più dove le tirano fuori? C'è chi scandisce slogan, che proclami per avere più carisma e sintomatico potere, o com'è difficile fare il sindaco quando le strade in bianco, anche qui nevica, però mi hanno detto il sindaco, i fiumi esondano, i governi latini, quanti problemi attraversano un paese come misero scagliarsi sui comuni che hanno meno potere? Noi, perché siamo piccoli e non contiamo niente. Com'è difficile restare calmi e indifferenti, mentre tutti intorno fanno solo un buono. sui piccoli comuni, svento la bandiera. La Presidente, perché l'argomento meriterebbe sicuramente ulteriori approfondimenti, però il tempo purtroppo è iniziato tardi, però l'Onorevole viene da Cosenza, quindi la giustizia.